Fatemi uscire di qui! Vi prego! Aiden! Non respiro! Aiuto! Vai, Aiden! Molto divertente, Steven! Ehi, non sono stato io! Non questa volta, giuro! Che cazzo succede? Io me ne vado! Non lasciatemi da sola! Ehi, aspettatemi! La porta non vuole aprirsi! È impossibile! Tira più forte! Ti dico che è bloccata! Stiamo calmi! Non c'è motivo di agitarsi! Le finestre! Le finestre! Mi sono bloccato! Ragazzi! Mi sei uno spazio! Non è affatto di recente! Cosa? Cosa? Cosa è stato? I tuoi giochettini non ci fanno paura! Già! Hai capito? C'è qualcuno! È da quella parte! So che c'è qualcuno! Fatemi uscire! Fatemi uscire! Fatemi uscire da qui! Merda! È un inco! Voglio svegliarmi! Voglio svegliarmi! Voglio svegliarmi! Chi è stato? Chi è stato? Aiutatemi! Aiutatemi! Non voglio morire! Non voglio morire! Ma che cazzo succede? Aiutatemi! Aiutatemi! Basta! Forza! Andiamo! Chi è stato? Merda! Chi è stato? Chi è stato? Mio Dio! Cos'è successo? Ha cercato di ucciderci! È il diavolo! È il diavolo! Vieni, Giove. Andiamo a casa.